Un saluto dalla redazione di Teleradio Canicattì, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione violenza in famiglia, arrestato Stefano Taibbi, 45 anni di Canicattì. Al termine di una lite in via Pitandello i carabinieri lo hanno trasferito in carcere al Petrusa di Agrigento. Vediamo. Stefano Taibbi, 46 anni di Canicattì, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ieri sera è scoppiata una lite violenta in un'abitazione tra il figlio convivente e i propri genitori ottantenni. Taibbi, dopo tanti maltrattamenti e minacce verbali, tentava di farsi consegnare dei genitori un libretto al portatore, al secco rifiuto da parte del padre andava in escandescenza, afferrava un grosso coltello da cucina, la cui lama di 25 centimetri circa, e iniziava ad urlare e minacciare il genitore. Le grida attiravano l'attenzione del fratello e della cognata, che abitano nell'appartamento al piano superiore, che scendevano per calmare gli animi. Ma Taibbi, ormai colmo di rabbia, si scagliava anche contro di loro. Afferrando al collo la donna, successivamente doveva ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso Barone Lombardo, dove veniva riscontrata, affetta da trauma contusivo al torace e gli arti superiori, con prognosi di tre giorni. Il fratello e la cognata, intervenuti spaventati dall'atteggiamento e alla vista del coltello, raggiungevano il proprio appartamento e una volta chiusi dentro il portone alle spalle, si sentivano minacciare dal pianerottolo, mentre infieriva fisicamente danneggiando con il coltello la porta. Una volta tornato nell'appartamento dei genitori, al piano inferiore, visto anche qui chiuso fuori, replicava il deneggiamento anche del loro portone. L'intervento della pattuglia dei carabinieri, della liquota radiomobile e della compagnia di Canicati, giunti presso l'abitazione in via Pirandello, riportavano il giovane alla calma, il quale alla vista dei carabinieri gettava l'arma bianca. Lo stesso veniva bloccato e trasportato presso gli uffici del comando compagnia per far luce sull'intera vicenda. I familiari, ormai esausti e soprattutto temendo per la loro incolumità, riferivano quanto accaduto pochi minuti prima. Sentiti i parenti e vicini, accertata la gravità dei fatti, veniva arrestato per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, minaccia aggravata, tentata di assorzione e danneggiamento. Taibbi veniva tradotto presso il carcere Petrusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si allontana per andare in campagna, rientro, trova la casa svaliggiata, è successo in via Barone Lombardo a Canicati, vittima del furto, un impiegato del luogo. I malviventi si sono introdotti in casa, rabbicandosi da una finestra secondaria che si trova al primo piano. Amara la sorpresa del proprietario che a rientro ha trovato tutto a suo quadro. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine, ancora da quantificare l'endità del danno. Continuano dunque gli episodi di microcriminalità che da alcune settimane fanno preoccupare tutti i canicattinesi e chiedono adesso alle forze dell'ordine di aumentare il controllo del territorio, specialmente nelle ore notturne. A proposito di presidi di legalità sul territorio di Canicati, il commissariato di pubblica sicurezza di Canicati ha informato e sta informando la città attraverso Teleradio Canicati del fatto che gli uffici resteranno chiusi, sì, gli uffici del commissariato resteranno chiusi venerdì mattina per mancanza dell'erogazione della corrente elettrica, quindi non sarà garantito il servizio di ricezione del pubblico. Una delegazione di abitanti del viale Carlo Alberto di Canicati ha deciso di recarsi in municipio per far presente agli amministratori alcune situazioni di disagio che si creano durante il mercato del mercoledì. Le proteste riguardano un'eccessiva sporcizia alla fine delle operazioni quindi di compravendita che si svolgono nel mercato settimanale e poi i livelli igienici precari. Molti ambulanti infatti lascerebbero per terra sacchetti contenenti liquidi organici accumulati durante la giornata, situazione che farebbe precipitare i livelli igienici nella strada. I residenti inoltre lamentano di essere penalizzati nell'uso dei garage e di non poter beneficiare dei servizi di soccorso dalle 7 alle 13.30 e chiedono all'amministrazione comunale guidata dal sindaco lettore di Ventura di predisporre nuove vie di fuga per i mezzi di soccorso e valutare la realizzazione di un'area nuova da adibire a mercato settimanale. A Ribera i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato due ragazzi tunisini per furto di energia elettrica per almeno due mesi con un allaccio abusivo. I militari nel corso di una perquisizione domiciliare hanno scoperto anche due grammi di hashish e pertanto gli africani già con precedenti di polizia sono stati segnalati dalla prefettura di Agrigento come consumatori di sostanze stupefacenti. I due giovanissimi, due di 16 e due di 18 anni di Agrigento sono stati denunciati alla procura dai poliziotti della squadra volanti per tentato furto aggravato. Gli agenti allarmati al 113 hanno sorpreso i quattro intendi a rubare in una villetta in contrada maddalusa. I quattro hanno tentato inutilmente la fuga e sono stati condotti in caserma dove un poliziotto li ha riconosciuti come gli autori del recente tentato furto al Penny Market in via Crispi avendone visionato in precedenza le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Ad Agrigento in via Garibaldi un'automobile pirata ha investito un ragazzo di 16 anni a bordo di uno scooter. Il 16 anni è rovinato a terra, attorno a lui sono accorse altre persone per soccorrerlo e probabilmente approfittando della confusione un malvivente ha rubato lo scooter appena incidentato. La polizia alla ricerca dell'automobile pirata e dello scooter è rubato, il ragazzo è stato trasportato in ospedale e non è ferito in gravi condizioni. E' stata arrestata a Malta la latitante sarda Donatella Concas legata al clan dei Casalesi. Secondo quanto riferisce la direzione investigativa antimafia la donna era ricercata anche nel territorio della provincia di Agrigento e in particolare a Sciacca dove si sarebbe nascosta per ben due anni. L'arresto è stato coordinato dalla direzione investigativa antimafia di Padova in collaborazione con le sezioni di Catania, Agrigento e Brescia. Sul conto della donna sarda di 40 anni pendeva un ordine di carcerazione emesso il 25 maggio 2015 dall'ufficio esecuzioni penali della procura di Venezia poiché doveva scontare la pena di 3 anni, 8 mesi e 13 giorni di reclusione a seguito di una condanna definitiva per i fatti accertati nell'ambito dell'operazione SERP condotta dalla direzione investigativa antimafia di Padova. La donna, si legge in una nota della DIA, è stata giudicata colpevole dei reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e rapina in quanto ritenuta affiliata ad un sodalizio insediato nel Veneto tra il 2009 e il 2011. Ad Ignazio Cutrò è stato revocato il programma di protezione ma non la scorta. Lo ha precisato lo stesso collaboratore di giustizia. Ribadisco tutto il mio grave rammarico per la decisione con la quale la Commissione Centrale, preseduta dal Vice Ministro Filippo Bubbico, scrive Cutrò, ha revocato il programma di protezione ma non ho mai detto che mi è stata revocata la scorta. La Commissione mi ha revocato il programma di protezione, si rifiuta di consegnarmi le due perizie dello stesso Ministero degli Interni nella quale si evince che la mia azienda è fallita perché lo Stato non ha fatto per intero la sua parte. Sentiamo il servizio di Claudio Spoto. La Commissione Centrale del Ministero dell'Interno ha revocato le misure di protezione di Ignazio Cutrò, il testimone di giustizia di Bivona, che facendo numerose dichiarazioni ha contribuito alle indagini che hanno portato al processo face-off sulla mafia della bassa quisquina. Secondo la Commissione sono venute meno le esigenze che avevano determinato le misure di protezione nei confronti dell'imprenditore bivonese e della sua famiglia. È stato il figlio dell'imprenditore Giuseppe. A rendere nota la notizia, Ignazio Cutrò ha preso la decisione, è stato colto da malore ed è stato ricoverato in ospedale. Ieri sera è tornata a casa. A questo punto l'imprenditore di Bivona potrebbe ricorrere al Tar. Il suo legale, l'avvocato Cati e la Barbera, ha fatto sapere che una volta esaminato il provvedimento, deciderà se presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Rimanendo nella sua terra d'origine nel commento del figlio e mantenendo la propria identità, ha potuto, a differenza di altri testimoni di giustizia, lottare, divulgare ciò che accadeva, tutte le situazioni spiacevoli che si potevano incontrare nel proprio cammino. Mio padre, aggiunto Cutrò Junior, ha fatto delle sue idee, della sua parola, un megafono per chi sottostava al silenzio da anni. La Commissione degli Interni ha comunque stabilito che il Servizio Centrale di Protezione segnali la posizione del testimone di giustizia e del suo nucleo familiare all'Ufficio Centrale per la sicurezza ai fini dell'adozione delle ordinarie misure di protezione. Inoltre, per eventuali impegni giudiziari, Ignazio Cutrò dovrà essere scortato. E stamani l'Associazione Nazionale Testimone di Giustizia ha espresso piena solidarietà e vicinanza a Ignazio Cutrò. A questo punto, Cosa Nostra, rileva l'Associazione, potrà compiere indisturbata la sua vendetta contro Ignazio Cutrò, così come ha fatto con Domenico Noviello, barbaramente assassinato. Saremo inflessibili nei confronti dello scandalo di Averum. È intollerabile che ci siano medici imprenditori che lavorano non per migliorare i servizi offerti ai cittadini, ma per sottrarre risorse al pubblico erario, speculando sulla salute degli ammalati. Lo dice in una nota il Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, in riferimento all'operazione della Guardia di Finanza che ieri ha portato in carcere cinque persone che dirottavano malati verso strutture private, prelevandoli dalle strutture pubbliche. È una vera e propria forma di sciacallaggio che non ci lascia affatto indifferenti. Il fatto che il rappresentante dell'impresa si chiami Messina Denaro, anche perché non si tratta di una casualità. Sono infatti cugini di secondo grado, non proprio il rapporto lontano di parentela, anzi vicinissimo. Già con Lucia Borsellino, continua Crocetta, ci eravamo preoccupati di questa situazione, interessando gli organismi competenti. L'inchiesta della Procura della Repubblica adesso apre un libro che intanto fa luce sulla truffa ai danni della Regione. Tale fatto per noi è insufficiente per chiudere ogni rapporto con la Diaverum e con le altre società coinvolte nell'inchiesta. Ci auguriamo anche che possa essere chiarito se oltre all'associazione a delinquere prefigurata dai magistrati di Catania ci siano ipotesi di coinvolgimento. Mi sono recato a Catania dal Procuratore Zuccaro per congratularmi per il grande lavoro fatto da magistrati e forze dell'ordine. Sono convinto che l'inchiesta avviata nel settore dialisi e sanità, conclude il Presidente della Sicilia, possa aprire filoni nuovi che consentano di sgominare pratiche molto diffuse che dovrebbero fare l'interesse pubblico e invece lavorano per il malaffare. L'ex assessore regionale Luigi Gentile assolto nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta Ciapi ricorda con rammarico il calvario giudiziario personale iniziato il giorno del suo arresto. Non potrò mai dimenticare lo sguardo di mio figlio quando sono stato arrestato. Eugenio Cairone. Assolto perché il fatto non sussiste, è il verdetto emesso dai giudici della quinta sezione del Tribunale di Palermo presieduta da Piero Falcone nei confronti dell'ex assessore regionale al territorio, l'agrigentino Luigi Gentile, accusato di corruzione nell'ambito del processo Ciapi, frutto di una inchiesta sulla formazione professionale e su una conseguente truffa all'Unione Europea. Condanne invece per l'ex presidente del Ciapi, Francesco Rigio, condannato a 5 anni e 8 mesi, 8 anni per il manager della pubblicità Fausto Giacchetto, 4 anni per Stefania Scaduto, 3 anni e 6 mesi per Rino Lonigro, ex direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego. Come dicevamo è stato assolto perché il fatto non sussiste l'ex assessore Luigi Gentile che non rispondeva del reato associativo. I giudici hanno accolto in gran parte le richieste avanzate dal PM Pierancelo Padova. Si è voluto anche scongiurare il rischio della prescrizione, da qui una sentenza che riguarda un mondo niente affatto tranquillo come quello della formazione professionale, spesso finita nell'occhio del ciclone negli ultimi tempi. L'inchiesta è ruotata attorno al progetto Corap, rimasto però sulla carta. Dopo le condanne adesso potrebbe essere sostituito a Lars il deputato del PD Francesco Rigio. Abbiamo al telefono Luigi Gentile, ex assessore regionale al territorio, assolto dall'accusa di corruzione nell'ampito del processo Ciapi. Onorevole Gentile, intanto per quanto la riguarda giustizia è fatta? Sì, giustizia è fatta. Dopo 40 mesi di grande sofferenza, ieri è arrivata la sentenza che fa giustizia, io non ho mai perso fiducia nella giustizia in questi mesi. C'era stata una prima sentenza della Cassazione dove annullava l'ordinanza di arresto, poi confermata dal Tribunale della Libertà, ci siamo fatti un processo dove nulla è emerso contro di me e diciamo che ieri con grande serenità è stata fatta giustizia nei miei confronti. Qual è stato il suo primo pensiero dopo il verdetto? Io il primo pensiero avevo accanto mia figlia che mi teneva la mano e ho pensato alla mia famiglia, a tutte le sofferenze che hanno avuto durante questo periodo e non potrò mai dimenticare lo sguardo attonito dei miei figli quando è uscita l'ordinanza di arresto e credo che la dedica alla mia famiglia, a mia mamma che è stata per 40 mesi a pregare per me. Ecco, ci sono state in queste ore, ci sono stati sicuramente dei messaggi che lei ha ricevuto, uno che ha gradito di più? Ma guardi, di messaggi ne ho ricevuti tanti, di gente che mi hanno dimostrato di volermi bene, tanti attestati di stima, di molta gente che non ha mai perso la fiducia nei miei confronti. Io sono una persona che mi sono sempre interessato per la collettività, mai ho pensato per me, ma mi è arrivato un messaggio da fuori, da Copenhagen, dove è che una persona a me è molto vicina, mi ha fatto un po' emozionare. La polizia ha arrestato per corruzione sei persone, tra cui un agente della stessa polizia. L'indagine avviata nel 2014 ha preso il via da un'altra parallele attività svolta dalla squadra mobile di Udine su un gruppo di rapinatori specializzati in assalte ai danni di istituti di credito del nord Italia, in particolare nella provincia di Udine. Gli investigatori siciliani sono riusciti a raccogliere elementi su un grave episodio di corruzione che avrebbe coinvolto un appartenente della polizia, il quale avrebbe fornito informazioni sulle indagini in corso ai componenti della banda in cambio di imprecisate somme di denaro. Per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, scena muta davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Egrigento e i dubbi degli inquirenti sui mandanti dell'attentato incendiario al sindaco di Licata, Angelo Cambiano, restano tutti. I due indagati finiti agli arresti omicidiari si sono avvalsi dalla facoltà di non rispondere. Gli interrogatori di garanzia per Angelo, Marco Sortino e Calogero Strincone, entrambi licatesi di 32 e 30 anni, si sono celebrati davanti al GIP Alessandra Vella che ha disposto il provvedimento cautelare su richiesta dei pubblici ministeri Simona Faga e Alessandra Russo. Sono loro, secondo gli inquirenti, gli autori dell'incendio appiccato lo scorso 8 maggio nell'abitazione di Rosario Cambiano, padre dell'attuale sindaco di Licata, da tempo alla ribalta nazionale per avere disposto, confermente a quanto intimato dalla procura, la demolizione di alcuni immobili abusivi. E a proposito di abusivismo, è tornato a far sentire la propria voce il Comitato per la tutela della casa di Licata. Ieri sera si è svolto un corteo per le vie della città, intanto stamattina il sindaco Angelo Cambiano è andato a Palermo, alla regione dove è stato allestito un tavolo tecnico per il problema dell'abusivismo edilizio. Vediamo. Il Comitato per la tutela della casa, così si chiama l'associazione spontanea di proprietari di case costruite abusivamente a Licata, ieri sera è tornato a farsi sentire e lo ha fatto per mantenere alta l'attenzione, dicono, sul fenomeno dell'abusivismo edilizio che non ha potuto soffrire, come nel resto della Sicilia, di interventi in sanatoria. All'indomani, dalla conferenza stampa dal sindaco Angelo Cambiano, al quale hanno partecipato e dopo i riflettori che si sono accesi sulla questione abusivismo per le minacciate di missioni del capo dell'amministrazione comunale, ieri sera il Comitato ha organizzato un corteo per le vie della città con il raduno proprio in piazza Progresso sotto al municipio. I rappresentanti del Comitato, guidati da Angelo Curella, hanno chiesto di incontrare il sindaco ma non sono riusciti nel loro intento perché Cambiano era impegnato in prefettura d'agrigento. Siamo fortemente delusi dall'atteggiamento di questo sindaco, ha detto Giovanni D'Angelo, ex vicepresidente della Regione, che si ritrova in questa situazione per aver acquistato una casa a poliscia, poi risultata non in regola. Perché Cambiano ha fatto in modo che ci siano famiglie che vivono in uno stato di ansia permanente in quanto non sanno se la loro casa sarà abbattuta o quando sarà demolita. Siamo legati a questa fiammella che il presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha acceso. Crocetta ha detto che l'ARS si impegna a varare la legge di riordino delle coste in Sicilia e in attesa che la legge venga promulgata si può pensare ad una moratoria che sospenderebbe di fatto le demolizioni. E noi siamo d'accordo con la linea del governatore siciliano. Ed è di questo che stamattina il sindaco Cambiano andrà a discutere a Palermo in occasione del tavolo tecnico convocato alla Regione dall'assessore all'ambiente territorio Maurizio Croce. Domani invece Cambiano volerà a Roma, dove è in programma l'audizione alla Commissione Ambiente del Senato, preseduta dal senatore agrigentino Giuseppe Marinello del nuovo centrodestra. L'intento del sindaco, con la provocazione delle dimissioni annunciate, comunque ha sortito l'effetto sperato, perché adesso del problema se ne discute nelle sedi istituzionali opportune. Intanto l'opposizione in Consiglio Comunale critica Cambiano e il sindaco, scrivono in una nota ai consiglieri di opposizione, ha ottenuto un maggiore isolamento della città rispetto agli altri comuni del comprensorio. Quindi il sindaco, rispetto al tema delle demolizioni, non ha ottenuto nulla e rispetto ai bisogni della città ha ottenuto una promessa difficilmente realizzabile e che dopo il referendum costituzionale potrebbe essere carta straccia. Premesso che la legge va rispettata e le sentenze eseguite pure se altrove non lo fanno, il sindaco continuerà, per usare il suo esempio, a non poter spiegare sui cittadini che la legge è uguale per tutti, perché mentre la Licata si demolisce nella villetta a pochi metri ma ricadente in un altro territorio, invece non lo si fa. Questa era la ragione risolta delle sue annunciate dimissioni. Un'altra porcheria politica del governo di Rosario Crocetta. Dopo averlo snaturato sul numero con una norma del maggio 2015, adesso propone una composizione che mortifica le serie competenze e l'alto e importantissimo ruolo previsto dall'avanzata legge legionale 80 del 1977. Ci mette dentro ingegneri, architetti e perfino avvocati. Guarda solo l'apparato dei beni culturali, tagliando fuori le associazioni e le più prestigiosi istituzioni culturali della Sicilia. Lo dichiara in una nota Gianfranco Zanna, presidente regionale di Regambiente Sicilia, un pastrocchio con il solo obiettivo di sistemare qualche amico pensato di metterlo in un posto di prestigio. Ma ormai da alcuni anni la politica sui e per i beni culturali è finita e questo è l'ennesimo esempio di mala politica. Si chiude il Museo Etno-Antropologico della Badia di Canigattì, l'amministrazione comunale non accoglie la richiesta dei proprietari dei beni concessi in comodato d'uso per l'allestimento del museo e quindi si chiude i particolari. Non abbiamo cosa farcene, venite a prendere queste cianfrusaglie. Detto in altri termini, per noi il Museo Etno-Antropologico della Cività Contadina, allestito dalla precedente amministrazione nei locali dell'ex Badia a Canigattì, può chiudere i battenti. Quindi i locali saranno liberati al più presto. Il sindaco Ettore di Ventura e l'assessore alla cultura, Katia Farrauto, sono stati chiari. Non abbiamo cosa farcene, dei beni concessi in comodato d'uso dai privati. Tutto nasce da una lettera protocollata al Comune di Canigattì il 6 ottobre scorso, sottoscritta da Angelo Greco e da Giuseppe Ferrante Bannera, per intenderci l'ex assessore del Comune di Canigattì durante la legislatura guidata da Vincenzo Corbo. Nella lettera indirizzata al nuovo sindaco, all'assessore alla cultura e per conoscenza anche al Presidente del Consiglio Comunale, Greco e Ferrante Bannera scrivono nella qualità dei proprietari della maggioranza dei beni concessi in comodato d'uso provvisorio al Comune di Canigattì per l'allestimento del Museo della Civiltà Contadina, chiedono all'amministrazione garanzie sulla custodia, l'integrità e sulla fruizione da parte del pubblico interessato a voler visitare il Museo. Qualora questo Comune non dovesse essere nelle condizioni di garantire la custodia dei beni concessi nell'apertura del Museo, si chiede la restituzione di tutti i manufatti di proprietà degli iscriventi. Considerato l'impegno e il sacrificio che i sottoscritti, scrivono ancora Greco e Ferrante Bannera, hanno dovuto affrontare per sistemare il Museo e al fine di evitarne la chiusura, con la presente si comunica che il signor Vincenzo Greco si rende disponibile per aprire il Museo nei giorni e negli orari che questa amministrazione vorrà stabilire e affare da guida ai visitatori. L'amministrazione comunale, con una lettera del 18 ottobre firmata dal sindaco Ettore Di Ventura dall'assessore alla cultura Katia Farrauto, comunica l'impossibilità da parte del Comune a garantire nello stato attuale la custodia e la salvaguardia dei beni concessi incomodato d'uso e attualmente allocati nelle sale del primo piano del complesso Exbadia. Pertanto si invitano le signorie loro a voler provvedere al ritiro dei suddetti beni in una data da concordare con la direzione dei servizi alla città. Per quanto riguarda la disponibilità offerta dal signor Greco di provvedere all'apertura dei locali per permetterne la fruibilità, pur apprezzandone l'impegno, si fa presente che il Comune, dicono Ettore Di Ventura e l'assessore Farrauto, non può conferire incarichi di alcun tipo sulla parola, in quanto qualsiasi rapporto tra ente pubblico e soggetto privato deve essere adeguatamente contrattualizzato secondo i modi e le forme previste dalla vigente legislazione. Quindi il Museo può chiudere, per buona pace, dai canicattinesi. In Sicilia saranno i Comuni a rimborsare le somme anticipate per pagare una maxi multa all'Europa per le discariche non bonificate. L'Europa ha inflitto una multa da 2 milioni e 400 mila euro alla regione siciliana perché non sono state bonificate 11 ex discariche non più attive. Se la multa non si paga saranno altri 2 milioni e 400 mila euro ogni sei mesi. La condanna risale al 2014, lo Stato nel corso del tempo anticipato è il denaro. La regione ha intascato il conto e lo ha presentato a loro volta ai sindaci dei Comuni interessati e alle discariche che non sono state bonificate. In provincia di Agrigento ci sono Cammarata in Contrada Martino, Racalmuto in Contrada Oliva e Siculiana in Contrada Scalitti. Anche se per Racalmuto, come spiega l'assessore all'economia Alessandro Baccei, si conta di dimostrare che il problema è già stato risolto, visto che nel frattempo la regione ha ottenuto uno sconto. Si è svolta presso la sede del Partito Democratico di Caltanissetta la direzione regionale dei giovani democratici della Sicilia. Tra i punti all'ordine del giorno la mobilizzazione dell'organizzazione giovanile per il referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo attraverso la costituzione di una rete di comitati per la promozione su tutto il territorio regionale delle ragioni del Sì. Questa scelta, supportata da un voto unanime in direzione regionale, è emersa dalla necessità di rendere il più possibile protagonista all'organizzazione giovanile nei rispettivi comuni in cui è presente, si legge in una nota. La Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno proposto dal parlamentare di Forza Italia Riccardo Gallo nell'ambito dell'esame delle nuove disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento retributivo nel settore agricolo, il cosiddetto caporalato. L'ordine del giorno di Gallo impegna il governo a valutare l'opportunità di definire un tavolo d'intesa con la regione siciliana al fine di aumentare la presenza nel territorio dell'isola tra forze di polizia, carabinieri, spettorato e prefettura per potenziare l'attività di contrasto a questa inaccettabile piaga che mette a rischio migliaia di lavoratori e compromette la credibilità di un settore composto da centinaia di migliaia di aziende oneste che rispettano la legge. Cerimonia di insediamento del nuovo procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che prende il posto quindi di Renato Di Natale per l'ex presidente della Corte Assise e dell'ufficio GIP-GUP del Tribunale di Agrigento si tratta di un ritorno al Palazzo di Giustizia in via Mazzini. Arturo Cantella. Cerimonia di insediamento oggi al Palazzo di Giustizia di Agrigento nell'aula Livatino del nuovo procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio che ha anche incontrato i vertici e il personale del Tribunale. Alla presenza delle massime autorità civile e militari Luigi Patronaggio è il nuovo procuratore. Patronaggio è già stato ad Agrigento ed era capo dell'ufficio GIP-GUP del Tribunale. Ha anche presieduto il maxiprocesso alla mafia agrigentina cosiddetto Acragas. Diverse anche le giornate di studio sul Livatino che Patronaggio ha organizzato in città quando era capo dell'Associazione Nazionale Magistrati. Patronaggio ha anche diretto la procura di Mistrette in provincia di Messina e poi a Palermo come vice procuratore capo presso la procura generale di Palermo seguendo i processi verso Dell'Utri, Cuffaro e da ultimo quello contro il prefetto Mori. Patronaggio verrà affiancato fino a dicembre dal procuratore Ignazio Fonzo allorquando andrà in altra sede come previsto dalla legge Mastella dopo otto anni di permanenza ad Agrigento. Spero di portare serenità e legalità a questi uffici giudiziari affinché l'azione giudiziaria sia sempre più incisiva come l'aspettano i cittadini che aspettano giustizia da questa magistratura. Una provincia dove i problemi non mancano mai in un ultimo questo caso sta scoppiando l'abusivismo anche a Licata, insomma sta diventando... Un problema va affrontato a suo tempo, grazie. Completa il quadro della dirigenza di questo ufficio giudiziario importantissimo e siamo felici di poter insediare il nuovo procuratore che ha una grande conoscenza anche della realtà locale e penso potrà fare bene, non avrà neppure bisogno di un rodaggio perché conosce già la situazione locale. È un momento importante che vede il Presidente Padronaggio appunto gestire il nuovo corso del Tribunale. Sì, è un'attestazione della stima e della considerazione di cui il Dottore Padronaggio gode in tutto il distretto giudizio di Palermo. Considerato una punta di diamante del distretto per la competenza professionale, per la tempra del carattere magistrato di collaudata esperienza che ha gestito alcuni dei processi più importanti alla storia giudiziaria di Palermo. Quindi sono certo che tutta questa esperienza, questo vissuto, lui la saprà investire in questa procura di agrigento garantendo un'amministrazione alla giustizia all'altezza della sfida che paesi, che città, che luoghi come questi segnati purtroppo da una tradizione storica di illegalità diffusa richiedono. Io innanzitutto sono particolarmente legato al territorio di agrigento perché per molti anni ho gestito la DDA di Palermo per il settore di agrigento, quindi conosco bene questo territorio, so quanto sia difficile e anche importante per il contrasto alla criminalità comune organizzata. Quindi sono particolarmente contento che a dirigere la procura di agrigento venga un magistrato di così grande esperienza e professionalità come il dottore Patronaggio, che conosco benissimo. E quindi vengo qui a portare i saluti della magistratura requiriente e anche giudicante del distretto, perché oggi purtroppo il presidente della Corte era impedito perché il presidente dell'importante collegio penale non poteva venire, porterò anche i saluti della magistratura giudicante. Quindi sono certo che per la collettività urgentina avere un procuratore di questa esperienza e di questo carisma è sicuramente un successo e un passo avanti per riconquistare questo territorio a quel livello di legalità che è fondamentale anche per la crescita economica e sociale della provincia di agrigento. La presenza oggi a questa cerimonia di insediamento è veramente quello di portare anche personalmente, come dire, sia come prefetto sia come persona gli auguri di buon lavoro al dottore Patronaggio sicuro che potrà lavorare e lavorerà al meglio anche perché conosce questo territorio e quindi molto più velocemente si inserirà all'interno dei problemi e non ne mancano. L'Aggiunta Municipale di Delia ha approvato i criteri per la graduatoria di assegnazione di 15 card per visite specialistiche alle persone indigenti residenti nel Comune per l'acquisto e la fornitura delle card il Comune è sicurato con l'Associazione Pronto Farmi di Caltanissetta un'apposita convenzione. Ogni test era alla durata di un anno dalla data di consegna e comprende un pacchetto di 5 visite specialistiche che potrà essere utilizzata da tutti i componenti del nucleo familiare a condizione che ogni componente usufruisca di visite specialistiche diverse se il beneficiario avrà necessità di una seconda visita questa verrà scontata con una riduzione dal 30 al 50% in funzione della specialità richiesta. L'erosione costiera nell'Agrigentino intervento di legambiente servono interventi sistemici e non esporadici dice Mimmo Fontana e nel frattempo il mare avanza. Vediamo. Il mare avanza ancora e non si tratta di fenomeni sporadici di alta marea ma di un vero e proprio fenomeno che sta iniziando a preoccupare in maniera seria i sindaci che amministrano i comuni rivieraschi si calcola che negli ultimi vent'anni il livello del mare sia avanzato almeno di 120 metri e in alcuni casi anche di 200 metri e lo testimoni all'ultimo episodio che si è registrato a Licata su quella che una volta era la spiaggia di Ripellino a Fondachello, Playa dove il mare ha abbattuto due villette e due giorni fa ha demolito il muretto di cinta della terza abitazione in serie è scomparso l'arenile sono state abbattute due case di circa 50 metri quadrati ciascuna fare conti si fa presto e fino a 10-15 anni fa il mare si teneva a debita distanza oggi è avanzato di almeno 200 metri a Licata il fenomeno era stato evidenziato nel 2010 quando durante la legislatura guidata da Angelo Graci l'allora vice sindaco Giuseppe Arnone aveva preso le carte ed era andato alla regione per chiedere interventi per arginare l'erosione costiera ma ci volevano troppi soldi e si doveva partire da uno studio delle correnti che sarebbe costato parecchio anche nella fase preliminare non sono necessari interventi sporadici spiega il responsabile urbanistica e sud della direzione nazionale di lega ambiente Mimmo Fontana che è anche assessore all'ambiente del comune di Agrigento dove il fenomeno sta creando notevoli preoccupazioni agli amministratori bisogna che la regione, dice Fontana intervenga in maniera strategica perché i singoli interventi non servono a risolvere il problema anzi lo rimandano a valle bisogna capire, aggiunge Fontana cosa ha determinato il cambio delle correnti è chiaro che tutti gli interventi fatti a mare cementificazione e negli alve e fluviali hanno determinato questo fenomeno ci vuole un atteggiamento serio da parte della regione e studi scientifici per capire cosa ha originato il fenomeno per poi passare alle soluzioni l'associazione ambientarista Maria Amico coordinata da Claudio Lombardo ha sollecitato alcuni interventi all'assessorato regionale al territorio ambiente per un progetto di soluzione per Agrigento al pari di quanto accaduto alcuni mesi fa per Eraclea Minoa la regione ha approvato un intervento da 6 milioni di euro per arginare l'erosione nella zona di Cattolica un fenomeno che continua a fare paura anche ad Eraclea Minoa dove in particolar modo nell'ultimo periodo il mare avanza con violenza distruggendo buona parte della Pineta e minacciando le strutture turistiche ancora decine gli alberi sradicati dalle ultime mareggiate disseminate lungo il litorale il mare ha cominciato ad erodere anche le strade di accesso danneggiato nei giorni scorsi nella seconda spiaggia ormai ridotta a Lumicino lo stabilimento balneare Lido Garibaldi dei fratelli Ragusa i titolari sono stati costretti a smontare in fretta e furia le due verande mentre ancora rischiano di crollare le cabine negli ultimi due giorni la situazione sembra migliorata nel senso che il mare calmo si è un po' ritirato lasciando spazio alla battigia ma la Pineta si è ulteriormente assottigliata Si svolgerà venerdì prossimo 21 ottobre alle 17.30 nella sala Blasco del Palazzo Comunale di Sciacca il seminario dal FEPP al FEAMP nuove opportunità per il settore della pesca organizzato nell'ambito del progetto Tarta Life riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale riservato agli operatori della pesca al seminario interverata agli altri anche il sindaco Fabrizio Di Paolo sono state invitate società cooperative di pescatori del compresorio Saccenza alle quali verrà illustrato lo strumento del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca il principale strumento di sostegno alla nuova politica comunitaria per la pesca si avvicina il giorno delle votazioni per eleggere il Presidente dell'ex provincia di Agrigento e i 12 consiglieri del Libero Consorzio Comunale sindaci e consiglieri comunali saranno chiamati a votare il prossimo 20 di novembre la Regione ha dato le ultime indicazioni vediamo quali sono entro domani la commissione provinciale che si occupa delle votazioni di secondo livello per l'elezione del Presidente dell'Assemblea composta da 12 consiglieri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento l'ex provincia dovrà depositare l'elenco dei grandi elettori dal 30 al 31 ottobre invece potranno essere presentate le candidature con le relative sottoscrizioni sono infatti disponibili sul sito della Regione Siciliana le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale delle elezioni di secondo grado dei Presidenti e dei Consigli dei Liberi Consorzi Comunali si tratta delle istruzioni che serviranno agli uffici elettorali ai Liberi Consorzi per organizzare la tornata elettorale del 20 novembre prossimo fanno parte della commissione elettorale di Agrigento il segretario comunale della città capoluogo Pietro Rizzo che svolge le funzioni di presidente Domenico Tutto lo Mondo segretario comunale di Canicchetti e Gabriele Pecoraro segretario comunale di Favara Domenico Sinaguglia funzionario del Comune di Agrigento ha assunto la carica di segretario per le elezioni del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la Regione ha considerato sulla base del censimento Istat del 2011 cinque fasce demografiche fino a 3.000 abitanti fino a 5.000 abitanti fino a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti e poi fino a 100.000 abitanti per l'assegnazione del voto ponderato in base a questa suddivisione i 130 elettori della prima fascia sindaci e consiglieri dei Comuni fino a 3.000 abitanti hanno provvisoriamente un voto ponderato di 38 si tratta dei Comuni di Burgio Santa Elisabetta Montallegro Camastra Lucca Sicola Sant'Angelo Muxaro Villa Franca Sicola Calamona Cigliopolo Giancaxio e Comitini i 173 elettori della seconda fascia hanno un voto ponderato di 65 questi i Comuni della seconda fascia Santo Stefano Quisquina Siculiana Real Monte Cattori Caraclea Caltabellotta Bivona Cianciana San Biaggio Platani Alessandria della Rocca Castrofilippo e Montevago la terza fascia comprende i Comuni di Aragona Castel Termini Racalmuto San Giovanni Gemini Naro Santa Margherita Bellice Camarata Sambuca di Sicilia Lampedusa Linosa e Grotte i 160 elettori della terza fascia hanno un voto ponderato di 123 più pesante il voto dei Comuni appartenenti alla quarta fascia Palma di Montechiaro Ribera Porto Empedocle Raffadali Menfi Ravanusa e Campobello di Licata i 143 elettori avranno un indice di ponderazione pari a 202 infine i 5 comuni della quinta fascia Grigento Sciacca Ponderazione pari a 244 Secondo quanto riportato nelle linee guida della regione il numero degli elettori e il calcolo dell'indice di ponderazione sono puramente indicativi in quanto calcolati provvisoriamente l'indice di ponderazione definitivo potrà essere inevitabilmente ricalcolato dall'ufficio elettorale una prima verifica si avrà dopo la pubblicazione dell'elenco nominativo dei sindaci e dei consiglieri di tutti e 43 comuni della provincia il termine per la presentazione delle candidature a Presidente Libero Consorzo o per il Consiglio è stato fissato dalle 8 del 30 ottobre alle 12 del 31 ottobre Oggi riparte la scuola busse per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia a Lauricella dell'istituto comprensivo Leonardo Sciascia di Racalmuto lo rende noto il sindaco Emilio Messana potranno subruirne spiega il capo dell'amministrazione comunale soltanto coloro che hanno fatto richiesta le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento della quota di 56 alunni la pagina dello sport è ripresa a pieno regime la preparazione atletica dell'Agragas in vista della prossima sfida di campionato per domenica 23 ottobre allo stadio Seneto contro il blasonato Taranto che avrà inizio alle 14.30 come sapete da domenica prossima cambia l'orario e quindi le partite inizieranno un'ora prima al primo allenamento settimanale hanno partecipato quasi tutti i giocatori in organico hanno lavorato a parte per i rievi infortuni Longo, Russo e Assisi che domani dovrebbero tornare in gruppo al completo lo staff tecnico guidato da mister Raffaele Di Napoli la squadra ha svolto esercizi di potenziamento buscolare e velocità poi partita a tema a campo ridotto domani alle 14.30 è previsto un allenamento congiunto con la formazione Berretti allenata da Cursio Sclafani il caricati calcio ha azionato il turbo cinque squadre inseguono a distanza domenica il carotto a Bordonaro arriva il Sera di Falco sentiamo il caricati calcio ha ufficialmente azionato il turbo la squadra di mister Giovanni Falsone dopo il successo con il Ravanusa ha rinzaldato la vetta e messo un altro timbro ad un torneo quello di promozione gironea fin qui quasi perfetto Tarantino e compagni non conoscono Sosta e domenica prossima contro il Sera di Falco potrebbe arrivare un altro successo che confermerebbe l'ottimo stato di forma ad inseguire ci sono ben cinque squadre che lotteranno fino alla fine per il miglior piazzamento dei playoff Atletico Libera e Menfi hanno fatto mezzo palso falso pareggiando rispettivamente con Partini Codace e cinque torri trapani la vittoria più entusiasmante della giornata è stata quella del Raffadari che ha sbancato Castellammare del Golfo con un pirotecnico 3 a 4 sulla stessa scia la Libertà Saracalmuto che nel derby della giornata ha rifilato il pocherissimo a Castel Termini bene anche il Camerat che è tornato da Salemi con il massimo della posta questa è la classifica Canicattì 16 punti Atletico Libera e Ars Menfi 13 Libertas Raffadari Nuova Sanchez pure loro con 13 punti Campobello 10 Camerat 9 punti Castellammare 9 Partini Codace 6 Sera di Falco 5 Ravanusa 4 punti Gattopardo 4 Castel Termini e Salemi e 5 Torri Trapani 2 punti prossimo turno Campobello Ares Menfi Canicattì Serra di Falco Castel Termini Ravanusa 5 Torri Trapani Libertà Saracalmuto Gattopardo Castellammare Camerat Partini Codace Nuova Sanchez Atletico Libera e Raffadari Calcio Salemi E sugli appuntamenti venerdì 21 ottobre alle 19 presso il centro polivalente di Via Trieste a Campobello di Licata si terrà la presentazione del libro di Andrea Turco fate il loro gioco la Sicilia dell'azzardo dalle storie alla patologia dai controlli dei monopoli agli appetiti mafiosi dalle decisioni politiche alle reazioni dei cittadini interverranno Carmela Burgio di Campobello di Licata la dirigente psicologa del CERT di Canicattì Maria Francesca Randazzo il direttore della comunità terapeutica terra promessa di Caltanissetta Francesco Alongi sarà presente anche l'autore verrà inaugurato venerdì 21 ottobre ad Agrigento lo spazio Temenos e nella chiesa di San Pietro il progetto Anch'io voglio essere realizzato dalla cooperazione nei territori del mondo Ollus CTM di Lecce un progetto sociale fotografico incentrato sui temi del diritto dei minori del diritto allo studio dell'importanza dell'istruzione e dell'uguaglianza tra i bambini del mondo l'appuntamento per venerdì alle 19 allo spazio Temenos Dario Gambino racconterà la sua esperienza saranno presenti le associazioni umanitarie di volontariato che operano con quindi con molta dedizione sul territorio agrigentino per un momento di riflessione intorno al delicato tema dei diritti dei bambini si svolgerà lunedì alle 11 lunedì 24 ottobre nell'auditorium Rosario Livatino del Polo Universitario ed Agrigento la Lectio Magistralis tenuta da Arturo Vittori dal titolo Varca Water per la partecipazione alla Lectio Magistralis saranno riconosciuti i crediti formativi ai professionisti che si iscriveranno all'evento la cui partecipazione è gratuita e a proposito di appuntamenti nel weekend ci sarà a Santa Margherita Bedice quindi la festa del Fico d'India il Fico d'India Fest 2016 giunto alla 18esima edizione si svolgerà quindi il 22 e 23 ottobre due giorni colmi di eventi spettacoli gastronomia degustazioni dove si potrà assaporare il frutto fresco o come ingrediente principale di semplici ricette legate alla tradizione popolare ma anche conoscere la strada del Fico d'India che oggi vede il comune Bellicino assieme a San Cono e Roccapalumba promuovere il prodotto a livello internazionale e la ultima notizia è il nostro telegiornale Fisci qui grazie per l'attenzione appuntamento alle prossime edizioni arrivederci grazie per la visione